Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque come avete sentito dai titoli è grande l'attesa ad Asti per la visita di Papa Francesco. Il pontefice arriverà in città già sabato, il sabato 19 novembre per una visita però tutta privata in occasione del novantesimo compleanno della cugina Carla Rabezzana. Ripartirà nel pomeriggio poi di domenica 20 dopo aver celebrato una messa nella cattedrale per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano proprio partiti i genitori per emigrare in Argentina. Nell'occasione il comune di Asti conferirà al Santo Padre la cittadinanza onoraria. Questa mattina nella sede della Curia Vescovile e in una conferenza stampa è stato illustrato il programma della giornata. Scusate per il disturbo che vi arrecherò sabato e domenica. Le parole di Papa Francesco pronunciate in una telefonata con il Vescovo di Asti, Monsignor Prastaro, danno la cifra dell'umiltà e della discrezione del Santo Padre che arriverà ad Asti il 19 novembre e ci rimarrà fino al 20. Quella che doveva essere inizialmente una visita privata Bergoglio viene sabato a Portacomaro a festeggiare il compleanno della cugina Carla Rabezzana si è trasformato in un evento pubblico. Solo la domenica però con il percorso sulla Papa Mobile l'ha messa nella cattedrale di Asti. Un avvenimento tanto atteso dalla comunità che sperava da tempo di poter vivere qui tra le sue mate colline il Papa Francesco. Un mese di lavoro matto e disperato per parafrasare un altro astigiano famoso, l'Alfieri, che ha messo alla prova l'amministrazione della città tutta così come hanno precisato oggi in una conferenza stampa ad Asti il sindaco, il questore e il comandante della Polizia Municipale. Ci aspettiamo almeno 25.000 persone, ha sottolineato il prefetto Claudio Ventrice. La richiesta è altissima anche da fuori provincia ma purtroppo non ci sarà spazio per tutti. In chiesa ci sarà posto per circa 1.200 persone, almeno 3.000 in piazza, le altre 20.000 le ipotizzano sul percorso che il Papa farà per raggiungere la cattedrale. L'itenerario prevede la partenza da piazza Catena per proseguire lungo via Gioberti, piazza Lugano, via Le Partigiani, piazza Torino, Corso Alfieri, piazza Cairoli e via Caracciolo. Il consiglio per chi non ha passa o arriva da fuori è di trovare posto sul tragitto. Per tutti l'appello è rispettare gli orari. Chi ha passa e posto dovrà presentarsi entro le 9.45. Dopo quell'orario i varchi di accesso verranno chiusi e sulle conseguenti criticità per la mobilità, soprattutto per i residenti, si sottolinea la necessità di rispettare le prescrizioni adottate dal Comune già dalla mezzanotte di sabato e l'invito a collaborare con le forze di polizia e con i tanti volontari. Tutte le informazioni sul percorso, sugli accessi alla piazza, sui biglietti e sulla criticità della mobilità si trovano sul sito del Comune di Asti www.comunediasti.it Ed inizia tra poco in Consiglio Comunale ad Alessandria un capitolo importante per chiudere definitivamente la storia del fallimento dell'ex ATM, l'azienda del trasporto pubblico urbano ad Alessandria. Si tratta di circa 10 milioni di euro di transazione che il Comune dovrebbe pagare. È una decisione molto importante che l'attuale amministrazione comunale vorrebbe mettere in atto. La Giunta nei giorni scorsi ha dato mandato al sindaco Giorgio Abbonante per la sottoscrizione di un accordo estrigiudiziale da 10 milioni di euro, cifra da pagare subito per chiudere con un notevole risparmio la partita del fallimento ATM che altrimenti, se diluita in rate nel corso dei prossimi anni, potrebbe diventare decisamente molto più onerosa. Sarebbe di oltre 22 milioni di euro, cifra dovuta per il Tribunale alla responsabilità per le obbligazioni sociali di ATM in misura pari alla massa passiva non soddisfatta per le perdite degli esercizi che riguardano gli anni 2012-2015. Il primo cittadino di Alessandria, Giorgio Abbonante, torna a parlare del progetto legato allo scala Omerci, puntando il dito sulla necessità di passare dalle parole ai fatti. A breve un incontro con il commissario del Terzo Valico e anche con tutti i cosiddetti portatori di interesse. Ce ne parla. Che ti procedo? Non è solo una semplice, per quanto suggestiva, la mostra allestita a Palazzo Monferrato d'Alessandria e che sarà inaugurata il 7 dicembre per celebrare i 170 anni della linea ferroviaria che da Torino porta a Genova, ma anche un modo per tornare a parlare dello sviluppo dello scalomerci di Alessandria. Argomento che si tramanda da anni di sindaco in sindaco e che fermo restando per tutti la grande opportunità che aprirebbe nuove porte alla città capoluogo piemontese, continuerebbe a rimanere una potenzialità cartacea. La necessità di sviluppare quest'area, che porterebbe grandi movimenti e quindi occasioni di sviluppo non solo imprenditoriali ma anche a livello turistico, passa ora anche attraverso le intenzioni del nuovo primo cittadino Giorgia Bonante, che a margine dalla presentazione dell'imminente mostra non ha perso occasione per tornare sulla questione, anticipando che a breve sarà organizzato un incontro con il commissario del terzo valico Calogero Mauceri e con tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati, per poter stilare una volta per tutte un programma vero dal quale si possa passare dalle parole ai fatti. È giunta l'ora che si prendano degli impegni effettivi, ha commentato Abonante, e che si definisca l'area sulla quale sviluppare lo scalomerci e soprattutto distribuire gli impegni e stabilire su quale progetto di gestione si deve lavorare. Priorità che arrivano a pochi mesi dall'emendamento al decreto aiuti varato a settembre grazie all'interessamento dell'allora senatrice Susi Matriciano e dell'onorevole Riccardo Molinari che stabiliva la distribuzione di 2 milioni di euro proprio da destinare alla progettazione del nuovo centro Alessandria a smistamento. Allora RFI si era detta pronta a finanziare il rifacilimento di almeno 41 binari, esprimendo però la necessità di coinvolgere anche soggetti privati. A questo proposito si erano fatti avanti diversi gruppi, ma al momento non c'è niente di certo. Quello che invece è sicuro è che si tratta di un'operazione da milioni di euro se si prende in considerazione il fatto che un solo chilometro di binario ne costa circa 6. Il progetto di Alessandria a smistamento rappresenta una delle attività strategiche da sviluppare per raggiungere l'ottimizzazione dei flussi logistici che fanno capo al nodo genovese e ai porti del sistema del Mar Liguero occidentale, con una previsione, si spera non troppo avvenieristica, di arrivare a una modalità ferroviaria con una situazione a regime che in termini di capacità si attesterebbe intorno ai 100 treni al giorno. È fisiologico, con l'inverno risaliranno anche i contagi Covid, il virus è sicuramente meno aggressivo, ma la comunità scientifica lancia comunque un monito. Non bisogna abbassare la guardia, è necessario vaccinarsi. I fatti però ci danno conto di un'Italia che è tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per quarte dosi somministrate. Il Piemonte detiene comunque il primato, 36,8%, rispetto a tutte le altre regioni italiane per richiami effettuati fino ad oggi. Alessandra Della Capo. Sarà un inverno ancora con il Covid, il cui dilagare è stato arginato grazie al vaccino e all'imponente campagna di richiami che, dicono gli esperti, deve proseguire nel suo percorso di prevenzione di un virus in molti casi letale, soprattutto se si è immunodepressi con altre patologie in corso. Eppure, nonostante quest'epidemia abbia atterrito il mondo intero, confinandoci in casa e portando tutti ad alzare il proprio livello personale di attenzione, ora la percezione Covid è diversa e la è proprio grazie al sistema di immunizzazione messo in atto con la campagna vaccinale, che è giunta ora all'ennesimo giro di boa con i richiami, in Italia vacilla e anzi pone il bel paese fra gli ultimi in Unione Europea per numero di quarte dosi somministrate. I dati sono forniti dalla Fondazione Gimbe, che pur riscontrando un virus diventato sicuramente meno aggressivo, ricorda anche come sia necessario gestire le ondate periodiche, di fatto non sempre prevedibili. E in termini di quarte dosi si è parecchio indietro con la somministrazione ai fragili. Tra le regioni italiane è il Piemonte a detenere comunque il primato, 36,8%, per la quarta dose ad oggi somministrata. Complice forse quella voglia di normalità, più che lecita, che piano piano sta tornando nelle vite di ognuno e il fatto che siano cadute tutte le restrizioni anti-Covid, la campagna vaccinale è rallentata. Gli stessi medici che chiedono alle persone di fare un richiamo a distanza di sei mesi dall'ultima dose o dalla guarigione, si sentono rispondere che la terza dose è stata fatta e quindi ora stop, ci si può anche fermare. E se l'indice RT è inferiore a 1 e l'ospedalizzazione è sotto controllo, è da tenere altresì in considerazione quanto proprio quella normalità che desideriamo dipenda soprattutto da quanto i fragili e i soggetti a rischio saranno protetti col vaccino. Si aggiunge poi l'influenza di stagione, che non va sottovalutata come malattia in sé e che potrebbe confondere le carte in tema di lotta al Covid. L'auspicio per parte della comunità scientifica è andare verso un'annualizzazione della campagna di immunizzazione anti-Covid, in particolare per le categorie a rischio, per patologia e per età, ricordando che vaccinarsi si traduce in un gesto che protegge se stessi e gli altri. Dopo mesi di siccità e caldo anomalo, arriva finalmente l'autunno in Italia che nei prossimi giorni porterà piogge temporali e nevicate sulle Alpi. I rovesci interesseranno tutta la penisola, ma quelle più abbondanti si registreranno in Sicilia, Sardegna e sul versante tirrenico, dove non si escludono anche possibili allagamenti e forti raffiche di vento. E con la pioggia protagonista sarà anche la neve, tornerà così a nevicare sulle nostre Alpi, in generale a quote medio-alte, ma a volte copiosamente e questa è un'ottima notizia. Venerdì e nel corso del fine settimana, poi con l'arrivo di aria più fredda, la quota neve potrebbe subire un deciso abbassamento e interessare anche l'Appennino. Secondo i dati, il maltempo perdurerà anche durante la prossima settimana, almeno fino al 24-25 novembre. 133 donazioni del sangue cordonale e 12 sacche idonee al trappianto. E questo è il bilancio dell'azienda ospedaliera di Alessandria, da quando ha ripreso l'attività all'interno del reparto ostetricia e ginecologia, allo scorso primo luglio, un reparto diretto da Davide De Alberti. Si tratta di un grande risultato, afferma il direttore della struttura, se si pensa che è calcolato sui 426 parti eseguiti da luglio ad oggi. Significa infatti che una donna su tre decide di donare il sangue del cordone ombelicale per una media del 31%. Sulla media nazionale siamo tra il 2% e il 5%. Queste donazioni hanno come obiettivo la cura dei pazienti affetti da malattie ematologiche, che sono in attesa di trappianto di cellule staminali emopoietiche, per le patologie della superficie dell'occhio, dove il sangue cordonale è in grado di controllare l'autoimmunità, sopprimere l'infiammazione e promuovere la rigenerazione dei tessuti e per la medicina rigenerativa in qualità di fonte terapeutica. Una serie di incontri programmati sotto il nome di Novi Riparte, chiaro riferimento alla crisi politica amministrativa che vive la città di Novi Ligure. Novi Riparte è una serie di incontri promossi da tutte le forze del centro-sinistra, PD, articolo 1, moderati e partito socialista, per arrivare alla stesura di un programma elettorale della coalizione di centro-sinistra condiviso con la cittadinanza. Il primo sarà giovedì 24 novembre nell'Aula Magna del Foral, la Novi, il titolo è Aspettando la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sarà fatto in collaborazione con il Teatro del Rimbombo e Medea, poi venerdì 2 dicembre alle 18.30 con il professor Paolo Trivero dell'Università del Piemonte Orientale, il tema sarà forestazione urbana, sabato 3 dicembre in Piazza Indipendenza dalle 16.30 in occasione della giornata mondiale della disabilità saranno organizzati i percorsi sensoriali bendati o in sedia a rotelle per far capire bene le difficoltà che incontrano le persone con disabilità ogni giorno nella vita in città. Mercoledì 7 al centro sportivo All Season, momento dedicato all'ascolto dei più giovani, questo momento si chiamerà Novi Domani, ed infine venerdì 16 dicembre tavola rotonda sui trasporti, logistica e rilancio dello scalomerci San Bovo e del nodo ferroviario di Novi Ligure. Allora ci stiamo avvicinando sempre di più al Natale e di conseguenza aumentano anche i servizi che riguardano i regali di Natale. Allora gustiamoci qualche utile consiglio per vivere al meglio i preparativi in vista appunto di un periodo che è molto amato da tanti. Alessandra De La Cava. Si dice che chi ben comincia è a metà dell'opera e al di là del detto popolare giocare d'anticipo solitamente paga. Anche in tema di regali natalizi. L'operazione Natale non è infatti cosa da poco. C'è chi si fa travolgere dalla faticosa corsa all'acquisto dell'ultimo minuto, chi invece predispone testa, cuore e portafogli per tempo beneficiandone in organizzazione mentale che si traduce in un buon modo per non aggiungere stress a qualcosa che dovrebbe essere un piacere. Pensare a cosa donare i propri affetti in occasione del Natale premesso che e il lungo periodo della pandemia ce l'ha fatto capire nel profondo il regalo più bello è il tempo che ci viene concesso per stare con chi ci fa stare bene. E allora chi è previdente anche in tal senso userà questo tempo a disposizione per cercare con calma i regali natalizi. La scelta sarà più vasta e come spiegano gli esperti del settore potenzialmente non intaccata dal triste aumento di prezzo che colpisce molti prodotti sotto le festività. La statistica pone ancora una volta quelli elettronici fra i più gettonati e allora il consiglio è di aspettare il Black Friday e il Cyber Monday rispettivamente il 25 e il 28 novembre senza dimenticarsi di attingere a tutta la propria fantasia per cercare di azzeccare il gusto della persona cui andrà il proprio regalo. In tempi di ristrettezza economica poi piacciono tanto i manufatti realizzati con le proprie mani. È il caso di dirlo. Basta il pensiero. E va bene. Allora avete i consigli per attrezzarvi in vista dei prossimi regali natalizi. Noi siamo quasi in chiusura del nostro telegiornale come sempre però c'è il tempo per darvi alcune notizie che riguardano non solo la pagina sportiva che seguirà il nostro telegiornale ma anche un avvenimento che da alcuni giorni sta interessando il capoluogo piemontese. È terminato da poco il secondo incontro che vedeva sul campo stiamo parlando ovviamente del tennis. È terminato da poco il secondo incontro che vedeva sul campo Nadal oggi contro Auger Aliasim e per la seconda volta la star del tennis spagnolo Rafa Nadal ne è uscito sconfitto. Il canadese ha passato il turno con il punteggio di 6-3-6-4 la prima sconfitta di Nadal era stata contro l'americano Taylor Fritz. Il tennista canadese oggi ha superato l'avversario in un'ora e 58 minuti di gioco riscattando così la caduta contro Rood e tornando in corsa per la qualificazione. Stasera dunque bisogna assistere al primo stasera c'è Fritz Rood per il primo posto quindi bisogna assistere assolutamente a questo incontro. Per quanto riguarda invece la pagina sportiva come sempre curata da Fabrizio Mattana parleremo di calcio e dell'impegno dell'Alessandria Calcio con il Reinate domani per gli ottavi di Coppa Italia poi di automobilismo con le immagini dell'accoglienza riservata dai soci della scuderia Ferrari Club di Alessandria al campione mondiale Alessandro Pierguidi al suo ritorno in Italia dopo l'impegno in Bahrain e infine Fabrizio Mattana farà anche il punto sui campionati di pallavolo. Adesso io mi fermo veramente qui grazie per averci seguito buona serata la nostra informazione torna come sempre domani alle 12.30 grazie arrivederci grazie